In italiano esiste il verbo stravedere, il cui significato è vedere anche ciò che non c'è, vedere qualcosa diversamente da com'è. Lo stravedamento è per i Ciosotti il raro ma reale spettacolo delle montagne che si specchiano sulla laguna, il trasformarsi di un orizzonte a nord da sottile linea blu evanescente a cornice di montagne imponenti. Paolo Fidelfatti, amatore voluto nel campo della fotografia, ha fatto di questo raro fenomeno naturale il cavallo di battaglia dei suoi scatti. Le sue fotografie dello stravedamento sono diventate un cult sui social, cliccati e commentati positivamente non solo dai followers della nostra città. Nell'ambito della rassegna Quattrociaccole, un progetto dell'Associazione Culturale Frenetic in collaborazione con la Fondazione Cloriense Onlus, Mercoledì 16 novembre, a Palazzo Grassi, Paolo Fidelfatti ha raccontato ad un numeroso e curioso pubblico la sua personale passione per questo fenomeno e la particolare tecnica, perfezionata nel corso degli anni, utilizzata per immortalarlo. L'uomo che avvicina le montagne, così è stato ribattezzato per l'occasione Fidelfatti, ha voluto presentare anche il suo repertorio di scatti analogici in bianco e nero, dal ritratto al panorama chioggiotto, accompagnandoli con il racconto di fatti ed anedoti in modo simpatico e coinvolgente. Non sono un fotografo professionista, in realtà, nella vita, la mia attività è il tappeziere, ha detto con estrema semplicità Fidelfatti, ma se mentre sto lavorando mi accorgo di una particolare situazione che merita di essere fotografata, mollo tutto e prendo al volo la macchina fotografica che porto sempre con me. E per restare in tema, selfie conclusivo di gruppo.